Tre denunce per occupazione abusiva di demanio marittimo e 16 tra Boe e Gavitelli rimossi a Capri in località Marina Grande. Il bilancio di un'operazione è svolta da Guardia Costiere e Guardia di Finanza sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania e del Reparto Operativo Aereo Navale. I militari hanno trovato 11 unità ormeggiate abusivamente a Boe e Gavitelli di fortuna, un tratto di mare divenuto una sorta di parcheggio abusivo e ora restituito alla libera fruizione della collettività. Nel corso del servizio è stata anche verificata la legittimità delle concessioni insistenti nell'aria. L'attenzione dei militari si è concentrata anche sulle acque antistanti la Grotta Azzurra dove è stato accertato un uso di forme della concessione con una sanzione di oltre 1000 euro. Nel corso delle attività i militari delle Fiamme Gialle hanno svolto anche controlli in materia di lavoro nero accertando la presenza di un lavoratore non in regola in materia previdenziale e assistenziale.